Musica Ben trovati amici con l'informazione della domenica di Termoli TV. La vendita all'asta delle concessioni demaniali slitta di 5 anni, così come deciso dal Senato, ma i balneatori molisani non sono soddisfatti. Abbiamo dichiarato lo stato di agitazione permanente. Ma sentiamo. Il Senato nell'ambito del decreto sviluppo Bissa ha approvato lo slittamento della vendita all'asta delle concessioni demaniali di 5 anni. Dunque la normativa Bolkenstein, che sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2015, sarà rinviata al 2020. Nonostante la notizia, le associazioni dei balneatori molisani continuano a far sentire la propria voce, anche perché la Commissione Bilancio del Senato ha approvato all'unanimità l'emendamento al decreto sviluppo, bocciando invece la maxiproroga di 30 anni. Abbiamo dichiarato lo stato di agitazione permanente, ha dichiarato a Termoli TV il presidente della FIBA, Pietro D'Andrea. E ci auguriamo che in questi sette anni che ci rimangono ci sia un'intensa attività politica importante, anche perché il nostro settore rappresenta il 10% del PIL nazionale. Dietro queste decisioni ci sono dei poteri occulti e, tra l'altro, non abbiamo trovato nessun alleato in Piero Gnudi, ministro del Turismo, che addirittura non ci ha mai considerati e si era detto sfavorevole alla proroga dei 5 anni, lanciandosi anche in una vera e propria campagna di disinformazione. Dunque la protesta dei balneatori continua ad essere viva e sempre più agguerrita contro questa direttiva Bolkenstein, che mette tutto in discussione. Inoltre, entrambe le proroghe avevano fatto registrare il parere contrario del governo, che aveva affermato che il rinnovo automatico di 30 anni non sarebbe stato compatibile con il diritto comunitario. Ma i balneatori non ci stanno e continueranno a promuovere battaglia contro le decisioni ministeriali. Termoli chiusa per fallimento e questo è il duro attacco dei consiglieri di opposizione al comune di Termoli riguardo la grave situazione che sta vivendo l'ospedale St. Timotio. Dopo le chiusure del Tribunale del Giudice di Pace e della piscina comunale, ora è la volta dell'ospedale St. Timotio. Spariscono i reparti di Otorino, urologia, medicina d'urgenza ed emodinamica. Tutti sapevano da tempo che i tagli fossero necessari per la sopravvivenza, hanno fatto sapere, né sindaco né amministrazione hanno ancora preso posizioni. Continua il maltempo sulla nostra regione che sta portando nevicate anche a basse quote. Il cielo si presenta nuvoloso e coperto in tutto il territorio, con venti forti e mare agitato. Il sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità arriva anche a Termoli e al convegno che si è tenuto in Galleria Civica tanti sono stati presenti che hanno partecipato all'incontro. Vediamo. Il primo congresso provinciale del sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità ha avuto luogo l'altra sera presso la Galleria Civica di Piazza Sant'Antonio. Prima dell'elezione del direttivo per la provincia di Campobasso, con la neonata segreteria che avrà sede a Termoli, si è svolto un dibattito centrato sulle problematiche che affrontano i disabili e le loro famiglie per l'assistenza, ma ancor più per rendere il più possibile normale la loro vita e per permetter loro di studiare e lavorare. Il convegno è stato presieduto dal segretario nazionale Dino Mauro Di Tuglio con i referenti Giuseppe De Luca e Gianni Pacucci ed il presidente del Consiglio Comunale di Termoli, Alberto Montano, a fare gli onori di casa. A seguire c'è stato il lungo ed intenso discorso del segretario nazionale Di Tuglio, socio fondatore e segretario nazionale del primo sindacato sociale, unico a tutelare a 360 gradi quel mondo della disabilità che è molto più vasto di quanto si creda, nato alla fine del 2003 ed ufficializzato poi il 9 marzo del 2004. Il segretario nazionale ha denunciato l'arretratezza culturale, filosofica ed infrastrutturale del nostro paese bacchettando pubbliche amministrazioni e scuole. I vari livelli istituzionali sono infatti a suo dire inadeguati ed incapaci di aiutare questi suoi figli meno fortunati di tanti altri e le loro famiglie, soprattutto al meridione. Arringhiato contro i recenti e continui tagli alla spesa della pubblica amministrazione, di fatto discriminanti e guardacaso mirati proprio e sempre al volontariato ed in generale alle politiche sociali, cosa che produrrà, soprattutto a medio termine, tutto fuorché effetti positivi ed aggravi di spesa sociale invece che un risparmio. In chiusura Di Tuglio ha augurato buon lavoro alla cellula molissana e ramentato che questa nuova segreteria avrà durata limitata, poiché a marzo 2014 tutte le entità locali, in occasione del secondo congresso nazionale, dovranno rinnovare quadri dirigenziali e delegati. Tensione nel carcere di Campobasto dove un detenuto ha dato improvvisamente in escandescenze e aggredito un poliziotto penitenziario che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Donato Capesce, segretario generale del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, ha divulgato la triste vicenda spiegando che l'aggressione è l'ennesima ai danni di appartenenti alla Polizia Penitenziaria. Per il leader dei Baschi Azzurri del Stappe la situazione penitenziaria resta e rimane allarmante. Il Parlamento ha approvato in via definitiva il provvedimento che nelle regioni vengano tagliate le auto blu, le consulenze, i convegni ed i costi istituzionali, i vitalizi, l'indennità ai consiglieri e il blocco del rimborso elettorale ai partiti in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Petraroia chiede alla Regione Molise di procedere agli adeguamenti amministrativi senza alcun indugio e di evitare di alimentare con ritardi ingiustificati, con inerze non condivisibili o con silenzi istituzionali incomprensibili, i risentimenti verso la pubblica amministrazione. Si terrà oggi alle ore 18 presso la Galleria Civica di Termoli il terzo appuntamento concertistico della rassegna Termoli Musica, organizzata da Onde Serene e dal Comune di Termoli. Sul palco la pianista Cinzia Bartoli che seguirà musiche di Chopin e Ravel. Bene, questa era l'ultima notizia per voi, vi ricordo che se avete segnalazioni potete contattarci all'indirizzo redazionechiocciolatermoli.tv. Grazie per la cortese attenzione e buona domenica. Grazie per la visione!